Brutta avventura Brutta avventura La paura è stata tanta per Elise Dospina, aggredita in strada a Verona, dove si trovava nei giorni scorsi con la sua famiglia per andare al concerto del volo Sono stata aggredita da un pazzo si è sfogata sui social, raccontando quanto accaduto, la mia colpa? Essere scesa da un marciapiede inagibile con il passeggino e avergli fatto fare Sono stata aggredita da un pazzo si è sfogata sui social, raccontando quanto accaduto, la mia colpa? Essere scesa da un scenario altamente improbabile, continua Elise Dospina Due turisti si erano anche prestati a testimoniare l'aggressione, ma capite bene che non posso né fermarmi a Verona per una denuncia Scenario altamente improbabile, continua Elise Dospina Due turisti si erano anche prestati a testimoniare l'aggressione, ma capite bene che non posso né si parla di denunce, di prevenzione e poi puntualmente non c'è mai una reale Poteva andare molto peggio, riflette, se avesse spintonato mio padre e fosse caduto con la testa visto che comunque le mani addosso gliele ha messa? Se fossi partita di brocca egli Poteva andare molto peggio, riflette, se avesse spintonato mio padre e fosse caduto con la testa visto La violenza va affermata già da questi episodi, attuonato, i soggetti pericolosi si vedono nelle piccole cose Non auguro solo di trovare un bravo psicanalista prima di fare danni La violenza è violenza sempre e non è mai gratuito E comunque vergogna a tutti i protagonisti di questa vicenda che alimentano una società sempre più allo In caso di necessità l'invito è sempre quello di rivolgersi per la denuncia, oltre alla polizia locale impegnata nella gestione della viabilità e degli incidenti stradali, alle forze del loro In caso di necessità l'invito è sempre quello di rivolgersi per la denuncia, oltre alla polizia locale impegnata nella gestione della viabilità e degli incidenti stradali Appena appreso la notizia, l'assessore alla sicurezza del comune di Verona, Stefania Zivelonghi, ha replicato a Elisa Dospina, facendoli arrivare tutta la sua solidarietà Rammà appena appreso la notizia, l'assessore alla sicurezza del comune di Verona, Stefania Zivelonghi, ha replicato a Elisa Dospina, facendoli arrivare tutta la sua solidarietà Rammà appena appreso la notizia, il suo appello, però, è preciso, denunciare è necessario ma i provvedimenti sono sempre lenti e non si Grata all'assessora Zivelonghi per il suo intervento, Elisa Dospina chiarito Non cambierà la mia idea su Verona dopo questo episodio, città che amo e ho amato molto quando vivevo e di denunce ogni anno ne faccio tante Investendo tanto del mio tempo nei vari Avrei potuto pubblicare nome, cognome e indirizzo dell'attività dell'aggressore ma ometto anche questo per evitare